Il settore della tokenizzazione di asset reali è una narrativa cripto che sta lentamente crescendo, ma nessuno ne parla. In questo video esploreremo come la tecnologia blockchain sta rivoluzionando il modo in cui pensiamo agli asset e investimenti nel mondo reale. Quindi cos'è esattamente la tokenizzazione? In poche parole è il processo di trasformazione di asset o risorse del mondo reale, come immobili, azioni e materie prime in risorse digitali o asset digitali che possono essere scambiate o tradate su piattaforme alimentate dalla tecnologia blockchain. Questo apre un nuovo mondo di possibilità per gli investitori, consentendo agli investitori di accedere ad asset che prima erano fuori dalla loro portata. Il World Economic Forum prevede che nei prossimi 10 anni il 10% del PIL mondiale sarà archiviato in token per un importo di 10 trilioni di dollari. La tokenizzazione ha il potere di cambiare il panorama finanziario così come lo conosciamo. Immagina di poter acquistare o vendere piccole porzioni di un immobile o di accedere ai mercati immobiliari globali da qualsiasi parte del mondo. E questo è solo l'inizio di quello che può offrire la tokenizzazione. Uno dei vantaggi della tokenizzazione è l'aumento di liquidità che affluirà nel mercato immobiliare. Semplificherà l'acquisto e la vendita di token in modo semplice e rapido, riducendo i tempi e i costi associati alle transazioni con immobili tradizionali. Inoltre tutte le transazioni sono registrate sulla blockchain, un registro immutabile di transazioni. Questo metodo di registrazione diminuirà il rischio di frode garantendo trasparenza. Gli immobili non sono l'unica cosa tokenizzabile. Le materie prime, assicurazioni, azioni, obbligazioni, metalli preziosi, arte e molto altra ancora possono essere rappresentati come asset digitali. E questi sono i progetti che stanno già lavorando in questo settore. Reelio, una piattaforma digitale di investimento e trading peer-to-peer che consente la tokenizzazione di asset come fondi comuni di investimento immobiliare o noti anche come REITs. Il progetto ha oltre 100 milioni di dollari in asset sotto gestione e stanno semplificando il processo di investimento in immobili e altri asset, rendendolo più accessibile a una vasta gamma di individui. Il progetto garantisce conformità alle normative e alle leggi pertinenti in varie giurisdizioni in tutto il mondo per fornire una piattaforma sicura e affidabile per gli utenti. Questo progetto vuole sfruttare i vantaggi degli exchange decentralizzati per facilitare il trading di asset, riducendo potenziali rischi e vulnerabilità associati agli exchange centralizzati. RIO è il token di utilità o il token nativo di Reelio e viene utilizzato per pagare vari servizi sulla piattaforma come la creazione e l'emissione di token per i progetti, listaggio su Real Helio X e sconti su commissioni di trading, ecc. La creazione del token RIO è stata fatta tenendo in conto l'equità e l'imparzialità senza un ICO che è praticamente come un IPO solo per criptovalute e senza un'assegnazione privilegiata per i fondatori. Tutto questo è stato fatto per garantire una distribuzione equa e l'airdrop iniziale è stato distribuito a 607 account individuabili con un importo uguale a 10.000 RIO ciascuno. Questo è quello che c'è scritto sul sito. Questo progetto è disponibile principalmente su DEX, exchange decentralizzati o alcuni exchange centralizzati come OKEX. Un altro progetto in questo settore è LCX che offre soluzioni tecnologiche sicure per titoli tokenizzati e asset digitali. La loro missione è quella di creare un ecosistema finanziario per criptovalute e fiat, offrendo i migliori asset cripto e aiutando gli utenti dei mercati tradizionali e blockchain a cogliere le opportunità di crescita in cripto. La visione del progetto è stata scolpita da Monti Metzner, il fondatore di LCX, un vero fanatico di cripto dal 2013. Il suo fondo VC o fondo di capitale a rischio Digital Leaders Ventures non è riuscito a investire a causa di lacune normative. Frustrato, ha deciso di fondare LCX, una piattaforma per offrire soluzioni cripto e asset digitali a livello istituzionale per investitori professionali. Il team di LCX ha competenze in tech, cripto, blockchain e settore bancario. I membri del team hanno guidato aziende in rapida crescita e hanno un'ottima reputazione nel settore. LCX è ovviamente il token di utilità che incentiva la partecipazione all'ecosistema. Viene utilizzato per pagare le commissioni per i servizi sulla loro piattaforma, inclusi abbonamenti e transazioni, ed è conforme alle leggi e regolamentazioni applicabili in Lichtenstein. Il progetto sta creando un ecosistema sicuro basato su blockchain per le istituzioni, commercianti e consumatori per varie tipologie di asset digitali. La regolamentazione è una delle priorità principali della piattaforma. Infatti stanno investendo in soluzioni tecnologiche AML e KYC per interagire con politici e istituzioni finanziarie. Il token LCX è disponibile su exchange centralizzati come Kraken e Coinbase. La tokenizzazione è basata su blockchain e asset nel mondo reale, ha il potenziale per trasformare il modo in cui investiamo e ci scambiamo questi asset. Ovviamente questo progetto è un mix tra una soluzione centralizzata e decentralizzata per via della regolamentazione. Questo settore della tokenizzazione di asset reali potrebbe accelerare il ritmo di adozione delle criptovalute e rendere le criptovalute una soluzione alla portata di tutti anziché un'alternativa usata da una nicchia di persone. Questo video è stato realizzato solo a scopo di ricerca e ti suggerisco vivamente di fare le tue ricerche prima di mettere soldi in qualsiasi delle criptovalute illuminate in questo video. Grazie per aver guardato questo video, se vuoi supportare questo canale utilizza il link che sono presenti nella descrizione e niente, se sei interessato ad altri video come questo ti consiglio di dare un'occhiata al mio canale.